Una legge che rilancia i borghi, un'opportunità per i borghi dell'Agronocerino Sarnese, ricchi di storia, cultura, arte, i cortili e tutto quello che rappresenta la nostra memoria, le tradizioni potrebbero fruire in una legge sulla riqualificazione dei borghi che porta con sé una serie di finanziamenti importanti. Nuova linfa al territorio campano e ai comuni dell'Agronocerino Sarnese che potendo contare su somme importanti in questo momento inoltre di nuovi incentivi finanziari che assume particolare rilevanza insieme all'approvazione sulla legge del condono edilizio che di fatto si pone come obiettivo di cambiare i metodi costruttivi nelle pratiche edilizie e nella gestione delle risorse. Questo comporta una maggiore attenzione alla salute e al benessere degli occupanti e dei cittadini, all'efficienza energetica, alla riduzione degli sprechi e dei rifiuti, nonché alla promozione di pratiche costruttive sostenibili a basso impatto ambientale e salubri a tutela della salute. Una transizione verso un'economia circolare e la promozione del territorio grazie anche all'efficienza energetica particolarmente cruciale per ridurre l'impatto ambientale nel settore edilizio e mitigare i cambiamenti climatici. Questo richiede un approccio integrato che coinvolga progettisti, costruttori, fornitori di materiali, enti di regolamentazione e utenti finali. I comuni scelti avranno a disposizione oltre 20 milioni di euro per rilanciare il territorio.